Signori, colpo di fulmine, il mago della truffa, Jim Carrey, Ivan McGregor in questa commedia assurda, molto carina, molto molto carina, pensavo fosse una roba un po' stupidina, invece è fatta bene, è fatta bene, è fatta bene, molto molto bello, al momento è su Prime in chiaro, il film è bello strano perché parte in un modo, poi continua in un altro, poi cambia ancora la pelle, c'è addirittura un, diciamo, che strizza un attimino l'occhiolino al film, al film Le ali della libertà, molto molto bello, consigliato, voto 8.1, un saluto a tutti, se volete iscriverti al canale e se volete lasciate un like, ciao ciao!